Entusiasmo, forza, gioia, amore, fede, potere di spostare le montagne. Cosa non riesce a fare lo Spirito Santo quando è libero di agire nel cuore dei fedeli, ma che cos'è che scatena la sua potenza? Ebbene sì, cari fratelli e sorelle, la bianca regina dei gigli con il suo messaggio di purezza. Perché solo la purezza ci rende capaci di spezzare le catene della misteriosa connivenza con il male che si annida nel profondo del nostro cuore. E che impedisce allo Spirito di far esplodere la vita in noi e attraverso di noi nel mondo con il potere più grande dell'amore.